Ciao a tutti ragazzi, sono Pino! Sono Lucky Doppio e benvenuti in questo momento Mi sono tenuto con Apple, guys, insieme a... Il quinto film! No, no, veniva... A Domain si registra a te! No, lui non è il vero Domain, lui è una voce registrata Io ho uno skin di militare dove il militare stava giocando a carte Si può vedere dalla carta? Il film l'ho notato solo ora, prova Aspetta ragazzi, non sapete che dopo vi dico una roba Dopo, dopo! Che voglio scoprire! No! La censura! Questa è l'ubblica perché la censura Forse ci delimini c'hanno più, però vabbè No! Si! Mi ha crashato! Dio santo! Non ti piaceva la mappa Sono primo! Giangorone è la mia preferita Davvero? No, come... Scrivete! Quando ci attiveranno i commenti scrivete Se vi piace già ancora E qual è la vostra proprietà Scrivete! E questo è tutto, ciao! Sono primo! Ti giuro! Pino! Sono Pino VGF! Che? No? Si! Ti prego no! Si! 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 No! Si! Fra! Fra! Forse mi qualifico per primo! Per me è sicuro! Anche Pino? Il nemico Pino! Oh! Che ciuolo! Che gooo! Dai! Pino 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 Pino! Ma ma! No! La parte più facile ho sbagliato! No! Cristo santo! È una bestemma! Guarda! 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 No! Non posso vedere! Ora quando arriva qualcuno Io mi qualifico! No! Fra! Io no invece! No! Stava arrivando qualcuno Io ero dietro il muro! Ma! Perché non stiamo facendo la stessa partita? Ah! Perché c'è! Io ero proprio dietro il muro! No! Si è qualificato! Certo! Ero dietro il muro! Stava arrivando qualcuno Io mi sono andato E mi chiede! No! Ma sto che stima! Ma perché in realtà puoi uscire dalla mappa? Si! Vai dietro il muro della riva! Lo sanno tutti! Io l'ho fatto tante volte! Oh Pino! Sono qualificato ragazzi! Ora se gli faccio una corona 10 mi piace! E le farò un'altra! Ora io imito Dominic nei video! Bravo! Luce pivot pass! Quella che mi fa abbastanza cagare! No! Io ho perso prima! Però a me piace per più! Sì! Però non mi piace a me! Ma la fa un bagno! Oh! No! Che figa! No! Pino! Mi porti sfortuna! Si! 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 Dai che mi qualifico! No! Pino! Basta! No! Non mi qualifico! Non mi qualificerò mai! Almeno che ora così! Ma! Ma ce la faccio? Ma ce la faccio? Ora aspetto! Porca di quella! No! No! Ce l'ho fatta! Ma! Ma! Ce l'ho fatta! Un carno! Mi assorai un carriolo! No! Fra! Fra forse non mi qualifico! Ok! Si! Mi qualifico per la finale frate! Come? Come terzo! Io sto cavolo qui! Come terzo! Io ci gozo del danno di qualifiche! Così abbiamo una rinforzazione! Che? Io sono più propri te stesso! Aspetta! Anche se sappiamo tutti che non è vero però! No! Ma! WTF! Si davvero ci qualifichi? Non credo! Eh? No! Cazzo! No! Quella della lava! No! Dai! Pina a me! No! Raffa io c'ho quella della lava per finale, io vorrei tanto lava, lei è in domani. No, sono caduto già nella lava, sono ultimo. Che trucco, sì, 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 bravissimo Dominic. Dominic se perdi quella fai un gruppo per cortesia, tanto sono in finale. E queste perdi cosa è molto probabile non uscire. Please, please. Non è molto probabile che io qua puoi vincere una corona, l'unico io che lei vincera. Sì, mentre io fai tipo. Sì, sì, non so, ma mi sono salvato da una roba impossibile per salvarsene. Ma porca, mi son salvato. Fra, fra son primo, forse vinco una corona. No, non è vero c'è qualcuno prima di me, un brutto pastore. Pastore. E di fianco com'è sto pastore di cacca? È appena caduto. È un pastore? No, no sono caduto. Ora sono quasi l'ultimo. Ora sono quasi l'ultimo. Però ora sono quasi l'ultimo. Non vale, dai. Cioè in realtà si vale. Per Pinu. No, sì, ma non mi salta bene. Guardate. Guardate. cosa paraglione,emi? Io quando quando agu�? La posta dico... No mi sono buttato nella lava.. Colonna Frifo. Cos'è pigo? La corona. dai! Sì, sì, quello che... No, ma insuletto. Dun son the hour ve lo dico.. Vi prego salvata. no 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 credo che ha vinto uno vero ragazzi no dai come sta con il finale frate ho perso credo vabbè non sono detto in filipino io continuiamo a rinesco a punti Dami li ho vinto a tucone è vero si vabbè chi ha vinto il prossimo fai un gruppo per cortesia santo ma io vorrei capire chi ha vinto mia sorella ma non mi ha detto chi ha vinto hai un gruppo e basta ok fai con la odio come se ti verrà nei commenti io lo facendo però il gruppo brava ciao errore impossibile unirci a un gruppo ma ho cliccato credo guarda questo ma fra sono entrato in un gruppo in cui non dovrei essere oddio 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 da che giorni credo o sarà solo l'uomo che sono entrati nel mio perchè mi dava ospite l'ho creato io dai no la mia prima notte ti prego posso provare ce la fai sei bravo in questa no no si 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 dai scura però non so se la vinco eh è difficile aspetta è la mia prima mappa preferita dov'è che si fa ora fa pagare questa è la mia prima mappa che ha di più oh bravissimo no si no aspetta non li puoi togliere sta roba che c'ha dietro o no ci ha raggio naggia roxford sto naggia ah togli sta roba di cacca cos'è che no toglila vai ok te la togli ciao pinu la faccio io pinu naturalmente stavo giocando io ecco perchè continuavo a cadere lo vorrei specificare chi ha vinto? ma perchè non te lo dice? di solito ti dice che ha vinto